Non vorrei che poi c'è il detto, no, è più cattivo un buono che diventa cattivo, che un cattivo diventa cattivo. Qui stiamo, come dire, stimolando alla giustizia, lo dico in punta di piedi, alla giustizia fai da te, perché poi se il cittadino non si sente rappresentato dal mondo della giustizia potrebbe decidere di fare da solo. Questo vorrebbe dire l'imbarbarimento della società. Così il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, sulla vicenda dei due ladri rilasciati a Jesolo, dopo essere stati sorpresi a rubare in un hotel. Liberi perché con la riforma a Cartavia, per l'arresto è necessaria l'immediata denuncia della vittima del furto. Abbiamo visto il caso di Jesolo, ma abbiamo visto anche altre situazioni accadute anche a San Donati Piave, dove giustamente è stata denunciata questa situazione, ovviamente che porta poi ad avere le persone degli atteggiamenti di aggressività, ma è naturale, perché se si sentono di non essere tutelati, di avere gli strumenti, io davvero ringrazio le forze dell'ordine, perché come si diceva prima, fanno dell'impossibile per cercare di dare delle risposte. Lavorano a bracetto con le nostre polizie locali e per fortuna che c'è questo tipo di intervento, ma vanno dati loro degli strumenti anche per poter agire con tranquillità. La rabbia delle associazioni, dei cittadini e dei sindaci di fronte ad una situazione che rischia di esplodere. Il legislatore deve prendere immediatamente in mano questa norma e deve sospenderla, annullarla, fare quello che deve fare, perché chi delinque non può pensare di farla franca, soprattutto anche legittimamente, quindi non ha senso perché non... Hanno ragione coloro che alzano la voce, lo stiamo leggendo a dei quotidiani, perché due giorni fa c'era lo stesso quello che lei aveva prima citato, il fatto, ma non è l'unico caso che in questo momento è avvenuto in questo senso, ce ne sono altri, ma non devono... Diciamo così che anche il legislatore può sbagliare. È necessario che a livello nazionale si intervenga per fare questo tipo di modifica, perché chiaramente si mettono in difficoltà già le attività, ma soprattutto anche la parte dei cittadini privati.